Chi è? Sono io, Cobra. Ho portato la roba. Lasciala davanti alla porta e levati dalle scatole. D'accordo, Johnny. Ma i miei soldi? Quali soldi? Eisi ha detto che avevi un po' di grana per me. Ah, sì? E quanto dovrei dare? Eisi ha detto il 10%. Peccato che essi non comandi più niente qui. Gli parlo io quando scende. Ehi! Intanto vorrei farti una proposta, Cobra. Ti do il tempo di contare fino a 10 per far sparire la tua brutta faccia gialla dalla mia proprietà prima che ti riempia le budella di piombo. Va bene, Johnny. Scusami. Me ne vado. Uno, due, die... Tieni il resto, lurido bastardo.